Il Belgio prova ad allentare le restrizioni anti-Covid. Venerdì è stato presentato un piano per consentire la ripresa delle attività all'aperto, ma bar e ristoranti resteranno chiusi almeno fino al primo maggio. Niente viaggi di piacere fino a dopo Pasqua. Le autorità invitano la cautela, dato che i contagi stanno tornando di nuovo a crescere, seppur lentamente. Siamo consapevoli che bisogna dare delle prospettive, dice il primo ministro. Un periodo di cinque mesi di restrizioni ha un impatto sul benessere psicologico ed è un difficile esercizio per tutti. La Repubblica Ceca ha chiesto aiuto a Germania, Svizzera e Polonia per curare i pazienti Covid perché gli ospedali hanno raggiunto la soglia di saturazione. 8.000 sono le persone ricoverate, troppe per un paese di 10 milioni di abitanti. La Germania ha subito risposto all'appello offrendo posti letto. Sono in contatto non solo con le autorità di Praga, ma anche con i nostri stati federali che hanno ancora posti liberi. Accogliamo volentieri i malati dalla Repubblica Ceca, se questo può servire ad alleviare la situazione. Anche in Italia vengono rafforzate le restrizioni in tre regioni. Veneto e Friuli Venezia Giulia passano dal giallo all'arancione, mentre la campagna diventa rossa, che è il colore della massima allerta, a cui corrispondono misure più stringenti. Nel bel paese i contagi superano le 20.000 unità al giorno. Musicisti e addetti del settore della cultura e del turismo hanno occupato un teatro della Rive Gauche di Parigi. Chiedono sussidi dal governo.